Vuoi vincere skin e pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte di me su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attendo la campanella e le notifiche Lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici E infine mandarmi le richieste sul mio accanto dove faccio i regali In questo modo avrete le possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte di me su Fortnite Ovviamente più amici vuoi riscrivere e più possibilità di vincere avrai Non mancherà delle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin e pass battaglia o V-Bucks Inoltre ricordo che se vuoi puoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite Inizierai nel mio codice creatore da Cini E se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò risponderti e ripostarti Bene tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video dovete ben poggiorarti Dovendo provare a vedere dove trovate tutte le monete XP di questa settimana 11 di Fortnite Provedizio a vedere appunto nel dettaglio dove trovate tutte le monete XP di questa settimana 11 Come alzio vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivete la campanella delle notifiche Così siamo aggiornati su questi tipi di video le live lo skin e passate a taglia E infine condividi il suo video, ci sentiamo a vedere anche a loro Appunto dove trovate tutte le monete XP di questa settimana 11 di Fortnite Quindi partiamo subito e iniziamo subito dalla primissima posizione Infatti la prima moneta XP di questa settimana 9 si troverà esattamente qui a Corso Commercio In questo punto preciso della mappa Quindi cerchiamo in questo punto della mappa di fianco Corso Commercio Lì dentro ci troverà proprio questa moneta XP Quindi cerchiamo qui, perfetto, entriamo qui dentro Ok, già qualcuno l'ha presa Per questo ha fatto il box al posto nostro Ecco qui, prendiamola Come alzio vi consiglio di farvi un box al torno Così riuscite a prenderle più facilmente Ok, la moneta XP è presa Adesso invece passiamo alla prossima posizione Ripi Slack esattamente in questo punto Ecco qui la moneta, la prendiamo Facciamoci anche un box per andarla a prendere meglio Ok, ecco qui la moneta La prendiamo Adesso invece passiamo alla prossima posizione Terza moneta si dovrà esattamente qui a Forte Frittelle Ecco qui la moneta, la prendiamo A prova la mappa esattamente in questo punto Quarta moneta si dovrà esattamente in questo punto Vicino Foresta Frignante Eccoci qui, la prendiamo Ecco qui il punto Prendiamo la moneta Adesso invece passiamo alla prossima posizione Quinta moneta si dovrà esattamente in questo punto E la mappa Dietro Burghiere Brumosa Eccoci qui dove ci troviamo Quindi in questo punto Ecco qui la moneta La dobbiamo prendere E invece passiamo alla prossima posizione Sesta moneta si dovrà esattamente qui Di fianco Moli Molesti In questo punto della mappa Eccoci qui Quindi in questo punto esatto Quindi ci leghiamo qui E praticamente qui sotto Troveremo la nostra sesta moneta Ecco qui la moneta La prendiamo Ok moneta presa E invece passiamo alla prossima posizione Dovremmo regarci esattamente qui Alla nave vichinga Alla sinistra di Sepi da Grifoglio Quindi in questo punto della mappa Infatti atterriamo subito Davvero molto semplice Alla posizione Trovano alla sinistra di Sepi da Grifoglio Quindi atterriamo Spacchiamo Andiamo all'interno della nave Ed ecco qui la moneta Ecco qui moneta Quindi la andiamo a prendere E abbiamo 15.000 punti di esperienza Apriamo ancora la mappa Ci troviamo esattamente in questo punto Ottava moneta Dovremmo regarci esattamente in questo punto esatto della mappa Quindi ci leghiamo in questo punto Voi potete sbagliare E precisamente nel fiume Troveremo la nostra moneta Ecco qui la moneta La prendiamo Eccola qui Apriamo di nuovo la mappa Esattamente in questo punto Quindi ci leghiamo in questo punto della mappa Ecco lì la moneta Quindi andiamo dentro l'acqua Perfetto Recuperiamola Adesso ci passiamo alla prossima posizione Ultima moneta XP di questa settimana 11 Dovremmo regarci esattamente in questo punto della mappa Eccoci qui esattamente in questo punto Qui ci leghiamo in questo punto Ed ecco lì in mezzo all'acqua La nostra decima e ultima moneta Quindi spero che questo video vi sia stato dito Per capire dove ero ottenere le monete XP di questa settimana 11 Se così come al certo vi ricordo di lasciare un bel like Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche Così ci siamo aggiornati su questi tipi di video E live lo skin base a taglia Infine condividi questo video Ci vediamo che ci vediamo E ci vediamo anche a loro Appunto dove trovare ultimamente le monete XP di questa settimana 11 Di Fornet Quindi prendiamo anche quest'ultimissima moneta Quindi come detto prima Spero che questo video vi sia stato d'aiuto E noi ci vediamo un prossimo video Alla prossima live Alla prossima live